Nel caso in cui abbiamo a che fare con moti rotazionali, relativi rotazionali, la situazione è abbastanza più complessa. Abbiamo citato poco fa in precedenza l'esempio di un oggetto che si muove in modo circolare. Se un oggetto si muove in modo circolare, ovviamente dal punto di vista del sistema inerziale, evidentemente ci sarà un'accelerazione centripeta a cui corrisponde una certa forza centripeta che agisce sul nostro oggetto, che sarà dovuta alla tensione di una fune o un attrito, o qualcosa che fa muovere questo oggetto in modo circolare. Dal punto di vista del sistema non inerziale, evidentemente, se ci mettiamo sopra il nostro oggetto, il cavallo del nostro oggetto, evidentemente l'accelerazione sarà uguale a zero, l'accelerazione percepita, la relativa sarà uguale a zero. Siccome dall'esterno è presente una forza centripeta, evidentemente la forza centripeta più la forza fittizia, questi devono essere uguali alla nostra f'', questa deve essere uguale a zero, per quanto visto in precedenza, quindi la nostra, in questo caso abbastanza semplice, la nostra forza fittizia è esattamente uguale a meno la forza centripeta. Difatti prende il nome di forza centrifuga, è diretta verso l'esterno e vale esattamente mv² fratto r, dove v è la velocità ovviamente con cui si muove nel sistema di riferimento inerziale, per osservare il sistema di riferimento inerziale. Sempre qualitativamente possiamo osservare ad esempio cosa succede a un oggetto, supponiamo di avere una piattaforma circolare che si muove con una certa velocità rotazionale, quindi che ruota di modo circolare, quindi che si muove con una certa velocità ω, supponiamo di partire dal centro del nostro disco un oggetto con una certa velocità v, che non ha attrito, quindi si muove tranquillamente sul nostro disco senza risentire dell'attrito. Se osserviamo il tutto da un sistema di riferimento che è fisso, quindi solidale con l'origine del nostro cerchio, vedremo che il nostro oggetto si muoverà di modo rettivo uniforme e quindi procederà lungo una linea retta. Se però lo osserviamo per esempio da un osservatore che si trova in questo punto, mentre il nostro oggetto si muove in questa direzione e raggiunge ad esempio l'estremo del disco, l'osservatore che è in moto si sarà spostato da questa parte. Quindi ovviamente dal suo punto di vista l'oggetto non si sarà mosso di modo retterino perché altrimenti gli sarebbe andato addosso, ma si sarà mosso di un moto che lo avrà portato in questo punto più distante, quindi se guardiamo il tutto dal sistema di riferimento in moto che ruota sul bordo del disco e il nostro oggetto partiva dal centro e in realtà finirà molto più a destra. Il moto che segue in realtà non è retterino così come abbiamo insegnato, ma sarà un moto di questo tipo, un moto curvo in questo tipo. Quindi questa accelerazione che in ogni punto risulta essere perpendicolare alla velocità, questa accelerazione prende il nome di accelerazione di Coriolis ed è un termine che rientrava nella nostra accelerazione di modo relativo che abbiamo visto in precedenza. Questo prende il nome di accelerazione di Coriolis, dal nome del fisico che si occupa di questi studi. Un altro caso analogo è quello che abbiamo quando andiamo a osservare ad esempio di un oggetto che si muove, supponiamo di considerare la Terra, e di avere un oggetto che si muove dal polo nord e comincia a muoversi dal polo nord e scende verso l'equatore muovendosi su quest'asse di moto rettilineo, quindi seguendo un meridiano. Dal punto di vista dell'osservatore che guardi tutto dall'esterno, quindi un sistema di riferimento inerziale esterno, questo si muoverà a continuare a muoversi questo moto rettilineo, però siccome nel contempo la Terra sta ruotando di sotto, quindi evidentemente se l'osservatore invece si trova qua solidale con la Terra, se lo aveva visto partire in questa direzione, poi quando lui arriva qua l'osservatore si trova da questa parte e quindi l'oggetto gli sembrava spostato verso indietro. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista dell'osservatore, i nostri oggetti tendono a muoversi in questo modo se vengono dal polo nord e in questo modo se vengono dal polo sud. C'è anche in questo caso questa accelerazione che tende a farli spostare rispetto all'asse al piano equatoriale. Anche questa è di nuovo l'accelerazione, prende il nome di accelerazione di Coriolis ed è quella che ad esempio è responsabile dei venti, dato che ci sono delle grosse masse d'aria che si muovono dai poli verso l'equatore per questioni di differenze di temperatura, queste grosse masse d'aria tendono poi a muoversi, a ruotare in questo modo e quindi ci saranno sempre dei venti, che sono i cosiddetti alisei, che espirano sempre in questa direzione dovuta al moto rotatore della Terra, esattamente nel verso opposto. In questo esercizio abbiamo un passeggero di un treno che si muove in un certo verso con una velocità di 108 km orari, che lancia una palla nella direzione apposta a quella del moto del treno con una velocità di 10 ms rispetto a lui stesso, quindi rispetto allo stesso passeggero. Viene chiesto di calcolare la velocità della palla rispetto a un asservatore che si trova a Terra. Quindi la situazione è questa, abbiamo il nostro trenino con su il nostro passeggero. Il treno si sta muovendo in un certo verso con una certa velocità di pari a 108 km orari e dentro il nostro treno il nostro osservatore, il nostro passeggero lancia una palla con un'altra velocità che è in verso opposto rispetto a quella, in direzione verso opposto rispetto a quella di moto del treno. Viene chiesto di trovare la velocità della palla percepita da una persona che si trovi a Terra, quindi che vede muoversi il treno e anche il passeggero e ovviamente conseguentemente anche la palla. Allora, in questo caso dobbiamo far uso del, quello che sappiamo sul calcolo delle velocità in sistemi di riferimento che sono in moto relativi uno rispetto all'altro. Scegliamo un sistema di riferimento fisso che può essere quello lì fisso sulla banchina dove si trova il nostro osservatore a Terra, il nostro sistema x, y, e un sistema in moto che lo mettiamo solidale con il vagone del treno, quindi questo sarà x' y'. La velocità con cui si muove quindi il sistema x' y' rispetto al sistema x, y, la velocità relativa di questo sistema rispetto a questo la indichiamo con v con r e sarà esattamente quindi la velocità del nostro vagone rispetto a Terra. La velocità quindi con cui il nostro oggetto viene lanciato nel sistema di riferimento del nostro treno, quindi fisso nel nostro sistema di riferimento, la indichiamo con v' perché è una velocità nel sistema di riferimento primo che è quella in moto. La velocità con cui l'osservatore da Terra vede muoversi il nostro oggetto la indiciamo con v. Quello che sappiamo dalla composizione delle velocità per sistemi di riferimento che sono in moto relativo traslazionale uno rispetto all'altro è che la velocità percepita e osservata nel sistema di riferimento fisso, cosiddetto fisso, è uguale alla velocità osservata nel sistema di riferimento in moto, quindi quella che chiamiamo con v' più, sommata vettorialmente, la velocità relativa dei due sistemi, cioè la velocità con cui il sistema in moto si muove rispetto a quello che abbiamo considerato fisso. Quindi questa è la nostra relazione che dobbiamo utilizzare. In questo caso questi vettori sono tutti orientati lungo la stessa direzione, quindi li posso considerare come degli scalari, devo solo fare attenzione ai segni al secondo del verso, quindi la velocità v con cui vedo muoversi la mia palla nel sistema di riferimento di x, y, sarà uguale alla mia v' quindi la prendo come scalare, che però devo prendere col segno meno perché nel mio sistema di riferimento è orientata in verso opposto al verso crescente lx, più la velocità v con r, che è la velocità con cui si muove appunto il nostro vagone, che prendo in verso positivo, in positiva maggiore di zero perché si muove nel verso concorde con quello delle x crescenti. Quindi vado a sostituire adesso i miei valori, quindi la mia v' è uguale al mio meno v', la nostra v' è la velocità con cui è stata lanciata la palla che è di 10 metri al secondo rispetto al nostro osservatore, rispetto al nostro passeggero, quindi sarà meno 10, più v con r, che è la velocità che ha il nostro treno che è 108 km orari, quindi più 108, devo passare da km orari a ms, quindi devo moltiplicare per 1000 per passarlo a m, dividere per 3600 per passare a secondi. Questo se mi vado a fare i miei conti mi dà come risultato più 20 metri al secondo. Questo significa che nel mio sistema di riferimento x, y la mia velocità è ancora maggiore di zero, quindi viene percepita maggiore di zero, quindi quello che io osservo nel sistema di riferimento fisso è che la nostra palla lanciata dal nostro passeggero si muove comunque con una velocità maggiore di zero, quindi nel verso crescente lx, quindi questa sarà la mia v, ovviamente questo valore 20 metri al secondo, che è uguale, se lo trasformiamo in km orari, è uguale a 72 km orari, sarà minore dei 108 km orari in cui si muove il treno, quindi da terra dove trovo il treno procedere a una certa velocità e la nostra palla procedere comunque nello stesso verso in cui si muove il treno ma con una velocità inferiore.